Siamo qui a Barcellona per l'ultima gara del campionato dell'Euroformula Open. Oggi nei test privati del giovedì abbiamo cercato solamente di mettere a punto il meglio possibile la macchina per le prove libere di domani, il sabato e la domenica. C'è ancora un po' da migliorare rispetto agli altri, però ce la metteremo tutta e vediamo da domani cosa accadrà.